Grazie, buonasera a tutti, dirò poco anche perché il sindaco ha fatto il quadro preciso e perfetto della situazione. Quello che diceva infatti è proprio dovuto alla natura della testata giornalistica. Io, così come noi e l'amministrazione, abbiamo auspizio e inizio ogni manifestazione che padrociniano di andarci a leggere un po' di storia, anche non conoscendo il passato, bensì leggendo il presente di questa testata giornalistica, ci siamo quindi resi conto dell'importanza culturale e asettica rispetto alle influenze esterne che può avere un giornale comitato. Per questo veramente abbiamo credito la vostra scelta di celebrare qui un momento così importante e per questi motivi io vi faccio gli auguri e vi porto i saluti da parte di tutta l'amministrazione comunale e di tutti i consigli comunali. Grazie. 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 Grazie.